Qual è l'utilizzo dei farmaci oppioidi in Italia per il dolore? Siamo nella situazione americana in cui è scoppiata anni fa una vera e propria epidemia o c'è un controllo e quindi possiamo stare sicuramente più sereni rispetto all'America? Questo è un tema molto dibattuto in questi anni e che abbiamo affrontato insieme al professor Marinangeli durante la 46esima edizione del congresso nazionale dell'AISD, l'associazione italiana studio dolore che si svolge a Bari. Professore, gli oppiacei sono una categoria di farmaci che è sempre stata un po' sotto l'occhio del ciclone e anche forse anche poco utilizzati in Italia per via delle problematiche che sono più frequenti in realtà oltreoceano in America. Come mai appunto in America si generano situazioni che vedono un abuso di questi farmaci e invece in Italia riusciamo a avere un controllo? Il sistema regolatorio italiano è completamente diverso. Noi abbiamo un sistema che ci garantisce realmente rispetto all'abuso di certi farmaci. teniamo conto del fatto che vengono prescritti sì anche dal medico di famiglia e possono essere prescritti anche dal medico di famiglia ma che ha un controllo del paziente perché mediante la prescrizione sul ricettario sul classico ricettario rosso può controllare quello che è l'uso di questi farmaci da parte dei pazienti. Stesso dicasi per gli specialisti, noi abbiamo una rete di ambulatori, di centri di terapia del dolore che i pazienti con dolore cronico in trattamento li tengono perfettamente sotto controllo. Quindi altro è l'uso terapeutico di questi farmaci, ripeto, per i quali c'è grande cultura in Italia e quindi anche grande prutenza nell'uso e appropriatezza direi. Altro è il discorso dell'abuso e quindi l'utilizzo di questi farmaci come stupefacenti e quant'altro. Quindi diciamo che le due realtà statunitense e italiane non sono assolutamente paragonabili l'una all'altra. Noi questo problema non ce l'abbiamo. Forse abbiamo il problema contrario nel senso che noi facciamo grande abuso di farmaci analgesici come gli antinfiammatori che effettivamente possono dare danno d'organo laddove gli opioidi non danno problemi agli organi. Per quale patologie, professore, e quindi per quale tipo di dolore sono utilizzati in Italia gli opioidi? Ma per il dolore acuto e cronico, ovviamente in formulazioni diverse, ma quando ci troviamo di fronte a un dolore severo che si tratti, ripeto, di un dolore in pronto soccorso per un politrauma o che si tratti di un dolore cronico importante e lì c'è appropriatezza d'uso degli opioidi forti assolutamente che sotto controllo medico sono farmaci assolutamente sicuri.